discriminazioni soprattutto proprio dell'ambiente di lavoro sinceramente è la parte che secondo me pesa di più che dopo dieci ore di lavoro quello che pensa metà della troupe che è maschile è ai miei pantaloni questa io la trovo una cosa devastante poi dopo dieci ore in cui hai comunque dato prova di quello che vale cioè appunto è un ambiente lavorativo insomma non è un ambiente di gioco si può giocare si può scherzare la confidenza a volte è limitata insomma invece credo che gli uomini in questo si sentano liberi continuamente di sottolineare che sei donna come se fosse una cosa nuova come se fossi lì per loro come al solito sembra che la donna esista in qualsiasi ambiente per l'uomo in realtà io sto lì a lavorare faccio del mio meglio insomma e vorrei essere calcolata per quello insomma vorrei che si prendesse in considerazione che so che io faccio scenografia il problema è che magari che ho io costantemente avere e mantenere il mio ruolo professionale a farmi rispettare in qualche modo cioè essendo appunto un reparto molto pratico tecnico noi tiriamo sui appunto i muri le stanze le case costruiamo insomma e a volte mi ritrovo che appunto alcune cose vengono un attimino prese con le pinze perché le propongo io magari al costruttore c'è un dialogo differente differente che ho visto nel tempo insomma che è un approccio diverso credo che sia lo stesso per una breve parte della mia vita ho fatto anche la decoratrice è come nei cantieri oggettivamente tu arrivi c'è l'operaio che quando gli dici una cosa e sei donna la prende in un altro modo insomma quello che che mi manca tanto adesso nel cinema quando vado al cinema tantissimo sono i ruoli femminili sono sempre piatti sono anche ci sono chiaramente dei ruoli che sono sub subordinati al protagonista però non sono piatti sono stereotipi anche quando non sono la commedia cioè quasi una la donna diventa un caratterista cioè al pari del l'uomo ciccione che fa ridere del non lo so cioè non è strutturata non è raccontata la donna non lo so strategie le quote le quote rosa il dare una parte di sgravo sgravio fiscale se si assumono delle donne mi mette una tristezza assoluta forse forse è necessario perché possa aprirsi qualcosa non lo so io lo chiederei un uomo io vorrei che che gli uomini trovassero la soluzione la strategia qual è cioè perché perché non prendete un progetto scritto da una donna perché cioè qual è quello che mi vi muove a fare questo e quindi cosa potrebbe non farlo no nel tempo